Ancora una volta l'Europa dimostra palesemente la sua incapacità ad affrontare situazioni di unione e quindi questa Europa, questa Unione Europea per me è un'altra volta un grande fallimento. Ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video un po' diverso dal solito perché i mercati ragazzi sono chiusi, resteranno chiusi fino alla fine delle festività pasquali che sono poco sentite perché semplicemente siamo in clima di pandemia e quindi non riusciamo magari a svolgerle normalmente, però questo è il weekend lungo dei mercati finanziari il più lungo di tutto l'anno, quello in cui restano chiusi per tanti 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 giorni quindi occupiamoci invece di una delle notizie più importanti per quanto riguarda l'economia della zona euro che è avvenuta appunto ieri, la famosa riunione posticipata, riposticipata, poi riposticipata ancora non si sa per quanto, insomma eccetera, che ha dato i suoi frutti sì o no. Oggi vi dico quello che penso relativamente a questo tipo di politica e vi spiegherò anche in 5 punti perché secondo me l'Europa per l'ennesima volta, l'Unione Europea in generale, ha dimostrato in maniera chiara di aver fallito. Premetto che ovviamente ragazzi questa è la mia opinione quindi non iniziate a scagliarvi o a dire cose insensate all'interno dei commenti però una cosa ve la chiedo, la vostra opinione ragazzi, scrivetemi nei commenti quello che pensate su quello che è successo ma scrivetelo con un po' di criterio cioè cercate di dare il vostro contributo anche a questo video perché quello che è importante anche nei commenti non è scrivere e bagianate, scusatemi il termine però dare ad esempio il vostro contributo quindi quella news in più, quella cosina in più che potrebbe far riflettere moltissimi che guarderanno questo video e moltissimi che leggeranno i vostri commenti quindi scatenatevi nei commenti ma in maniera positiva. Prima di andare avanti vi chiedo poi come sempre di iscrivervi se ancora non l'avete fatto lasciatemi un pollicione se vi piace un po' questa tematica un po' diversa dal solito un po' laterale, non è ovviamente lontana dai mercati finanziari ma non è neanche centrata sul trading iniziamo subito dal primo punto. Perché un fallimento europeo? Allora primo punto ragazzi, i ritardi nell'affrontare in maniera unitaria questa crisi di pandemia ritardi che sono stati enormi perché sono arrivati a distanza di decine di giorni da quelle che non state invece le decisioni prese per esempio dagli USA nonostante ad esempio gli Stati Uniti siano stati colpiti dalla pandemia molto più tardi dell'Europa l'Europa è riuscita nonostante tutto a prendere decisioni tra l'altro di sommo genio lo vedremo tra un poco in estremo ritardo anche relativamente a quella che è il nostro competitor principale cioè quello che fa parte del nostro tessuto economico cioè gli Stati Uniti. Secondo punto, vergognoso, abbiamo dato spazio e possibilità a paesi come l'Olanda ragazzi di poter decidere di politiche di disgregazione perché quelle che vengono poi prodotte da paesi come l'Olanda ragazzi sono state politiche di divisioni, politiche non di unione perché al di là di questione di natura finanziaria e sociale la presenza per esempio di un euro bond della presenza e della condivisione del debito è un concetto anche sociale e politico non è solo economia ragazzi non siamo solo frutto di numeri, solo frutto di finanza e quant'altro siamo anche frutto di ideologie, di pensieri condivisi e penso che tutta la popolazione europea residente negli Stati Europei avrebbe gratito e visto in maniera corretta, in maniera unificante la presenza della condivisione del debito almeno in una situazione di questo tipo ragazzi che è una situazione assolutamente non legata alle politiche fiscali o di deficit o imbrogli vari dei singoli Stati. Almeno in questa situazione avrebbe dato spazio alla dimostrazione che l'Unione europea non è solo un'unione di banche e di burocrazia ma è un'unione anche di aiuti condivisi di visione politica verso il futuro. Bocciatissimo l'atteggiamento dell'Olanda paese tra l'altro ragazzi che ha un peso sul PIL intorno al 5,80% del PIL europeo con l'Italia che ha più del doppio ragazzi, oltre il 13% ma poi c'è la Francia che è ancora di più dell'Italia quindi un ennesimo fallimento europeo la possibilità di dare a paesi come l'Olanda questo tipo di spessore politico. Un paese tra l'altro ragazzi che si autofinanzia il tessuto di impresa palesemente con evasioni fiscali a danni di paesi come l'Italia e di tutti gli altri che magari sono svantaggiati in questo momento per questioni di debito e quant'altro. Quindi stride ragazzi questa cosa, stride, ok? Terzo punto, c'è stata una visione totalmente disgregata di una crisi che era un'Italia ragazzi l'ho già detto e lo ripeto e anche gli atteggiamenti di quelli che dovevano essere i politici chiamiamoli così o i burocrati dell'Europa, cioè le persone che si stavano ad ascoltare nel momento in cui c'è una crisi importante come quella attuale, quella in cui stiamo vivendo quella che cambierà volente o non volente tutta la nostra vita sociale chi ascoltiamo in queste situazioni? Abbiamo visto il presidente della BCE, la Lagarde, sparare fesserie un giorno e rimangiarsene il giorno dopo stiamo parlando del presidente della Banca Centrale Europea uno dei personaggi più di spicco e di importanza nel tessuto dell'Eurozona che fa una dichiarazione e se la rimangio il giorno dopo io mi ricordo dai miei vari studi di macroeconomia ragazzi cosa significava il poter avere valenza sulle parole del presidente delle banche centrali me lo ricordo bene questo tipo di atteggiamento e insomma fatto apposta o non apposta non lo sappiamo questo purtroppo non ci è dato saperlo ragazzi ma sicuramente una figuraccia così come una figuraccia anche l'atteggiamento della Funderland che è sicuramente un po' diciamo lago della bilancia in questa crisi ma che allo stesso tempo sembra più occuparsi di fare la politica da una parte e dall'altra piuttosto che indirizzare in maniera consistente quello che doveva essere l'atteggiamento dell'Unione Europea dei singoli stati nell'affrontare questa crisi anche il presidente della Commissione doveva fare questo tipo di atteggiamento doveva dimostrare ai cittadini europei che l'Europa era unita invece disgregante anche questo tipo di atteggiamento anche nelle istituzioni base della nostra zona euro quarto punto la Germania c'è o non c'è un leader inesistente io li chiamerei un po' così ragazzi la Germania è sempre vista da noi come il paese leader perché hanno dimostrato con la loro capacità produttiva di essere un paese che sa risolvere le situazioni di essere un paese che si riprende dal dopoguerra e quant'altro eppure in questa zona euro la Germania è latitante ragazzi lo è sempre stata a parte che abbiamo una cancelliera ragazzi e al potere da 15 anni cioè non so neanche Putin un altro poco oppure un principe delle rabbia saudite non so insomma ragazzi comunque fate voi sembrano più attaccati alla poltrona che dare situazioni di insomma di polso sì è vero che avevano erano favorevoli in questo caso alla condivisione del problema quindi a questa unione però ragazzi manca il polso perché poi la Germania diciamoci chiaramente è leader in Europa dovrebbe essere la leader in Europa dov'è questa leadership? gli dovremmo prestare alla signora la nostra diciamo caccelliera uno dei grandi libri di Dale Carnegie ragazzi su come si diventa leader ma veramente non sono leader oppure ci fanno e questo è il problema quinto e ultimo punto quello che mi piace di più l'inconsistenza assoluta di questi aiuti circa mille miliardi ci sono, non ci sono metà vengono da lì metà vengono da lì quelli servono per quello questi servono per quello ma di cosa stiamo parlando gli Stati Uniti sono intervenuti in 4 secondi a dare montagne di soldi per bloccare i mercati abbiamo visto quello che è successo sui mercati USA dopo gli interventi della Fed non passa giornata che Trump si sveglia la mattina e dice ho aperto la stampante seppo soldi giusto o sbagliato che sia non è una questione idealistica ragazzi è una questione di gestione di una crisi avvenuta in maniera estremamente rapida estremamente professionale da parte degli Stati Uniti e ancora una volta nel quinto punto estremamente inconsistente per quanto riguarda l'Eurogruppo che dà più o meno un bonus intorno ai mille miliardi si poi si fanno aggiungere a quelli che ogni Stato ha dato e questo bisognerebbe poi capire imporre queste cose ma tutta questa disgregazione e anche questa forma di dare aiuti si aiuti no a che serve? il problema di fondo è sempre lo stesso questi egoismi tra gli Stati ragazzi che sembrano non venire meno in un modo o nell'altro c'è sempre il tentativo di gioco politico tra Stati non è un'unione sembra più una riunione di condominio tra pazzi schizzati di testa scusatemi il termine ma volevo anche farvi fare due risate però effettivamente ragazzi sembra questo però si capisce perché noi mille miliardi gli Stati Uniti due mila ma perché siamo di meno cioè sulla base di cosa per quale motivo per quale motivo le nostre imprese valvano di mano hanno bisogno di meno aiuti non lo so ragazzi voi avete un'idea su questa cosa scrivetemela nei commenti però parlare anche del fatto ragazzi che l'accordo in questione cioè quello dell'Eurogroup arriva quando il giovedì quando il giorno dopo ragazzi i mercati chiudono per il weekend più lungo di tutto l'anno cioè siamo solo noi in grado di fare una cosa del genere immaginate un amministratore delegato di una delle più grandi aziende che deve andare a comunicare ai suoi azionisti che ha guadagnato tanti di quei soldi che neanche se lo aspettava la notizia più importante del mondo quando lo fa lo fa il giorno in cui i mercati sono chiusi per il weekend più lungo dell'anno ma cioè che è pazzo ragazzi lo fa il giorno in cui i mercati devono aprire dopo un'ora così beneficiano della spinta di questa riunione di questa decisione di questa notizia positiva non il giorno in cui i mercati sono chiusi per quattro giorni che non si sa che cosa può succedere e questa notizia sarà messa nel dimenticatoio vi rendete conto l'inconsistenza proprio delle istituzioni nella zona euro in questa crisi una barzelletta ragazzi assolutamente una barzelletta bene scusate il mio nervosismo oggi capitevi insomma mi aspettavo di più come l'avete capito in tutta questa inconsistenza i cinque punti che io vi ho detto ragazzi quelli che reputo assolutamente fondamentali per valutare anche in generale quello che è lo stato della noszione europea ci aspettavamo di più le grandi crisi sono anche grandi occasioni ragazzi per dimostrare dove ci può andare come si cammina con i nostri piedi che cos'è la nostra visione per il futuro quali sono i nostri ideali quali sono i nostri valori che vogliamo condividere da qui agli anni a venire le crisi non sono solo numeri finanziari buttate giù a caso ma cambiano il mondo come l'hanno sempre fatto in millenni e dietro le nostre spalle e in quelli anche che si spera arriveranno ragazzi in tutto questo marasma sono sincero sono rimasto anche stupito in maniera positiva dell'atteggiamento italiano ragazzi che una volta insomma ogni tanto va anche applaudito ragazzi perché siamo riusciti ad essere comunque un paese che cerca l'unità che non disgrega mai che cerca di andare in Europa a proporre fa proposte sempre positive cerca di instaurare equilibri cerca di indicare delle strade delle vie che sono corrette visionare positive al di là di appartenenze politiche ragazzi abbiamo visto in questo momento chiaramente in Italia ci sono le solite boiate scusatemi il termine anche se io molto spesso condivido alcuni pensieri anche delle opposizioni insomma ragazzi però in una crisi del genere ste boiate messe lì in stile twitter per favore cioè cerchiamo di dire di dare informazioni veritiere le informazioni giuste le informazioni veritiere sono fondamentali al di là di queste cose quello che è stato chiaro in questo momento è che il ruolo dell'Italia è stato più di leader europeo piuttosto che di paese che badava a se stessi io spero una cosa ragazzi che l'Italia ce la faccia con le sue gambe come sta facendo finora sembra che questo mess senza vincoli che altro non è che in pratica ragazzi un fondo dove noi prendiamo soldi e glieli rimettiamo come ci pare e piace a noi quindi facevamo gli eurobond era meglio ma siccome non dovevamo farli passare in questo modo perché non dovevamo unirci ragazzi tra di noi perché gli stati europei non devono essere uniti devono essere disgregati ok allora allora facciamo il mess finto che non è più un mess insomma vabbè al di là di questo ragazzi io spero che l'Italia non userà neanche questo fondo che tra l'altro è anche molto piccolo quindi non avremo in ogni caso grande importanza sono più o meno il 2% del nostro PIL quindi 350 miliardi circa penso che non lo useremo vi dico francamente ma al di là di questo il concetto di fondo è che io spero che l'Italia ce la faccia con le sue gambe e tra le altre cose noi dovremmo essere anche i primi a uscire da questa crisi e spero sarà ricordato anche dai nostri politici di usare lo stesso rigore la stessa imparzialità se così dovessi dire ragazzi quando qualcuno chiederà una mano magari un domani perché se l'Italia è la prima a uscire ragazzi sarà la prima anche a diventare nuovamente un po' più forte rispetto agli altri stati europei colpiti meno colpiti non colpiti di più insomma questo ovviamente non lo auguriamo a nessuno questo non c'entra nulla però ragazzi ancora una volta Eurogruppo che cosa dimostra? 2020 ragazzi 2020 io ricordo il primo giorno che ho fatto il mio primo trading utilizzando l'Euro me lo ricordo ragazzi era due anni prima che arrivasse nelle vite di ognuno di noi oggi è il 2020 ennesimo fallimento dell'Unione Europea che di Unione non ha mai avuto nulla ciao a tutti ci vediamo nel prossimo video